Salve a tutti, bentornati qui sul mio canale Allora, prima cosa, iscrivetevi al canale Ragazzi, fatemi questo regalo, voglio arrivare ai 500 iscritti il prima possibile Vi chiedo di iscrivervi Seconda cosa, ma allora avevo ragione Ma allora questo scemo aveva ragione Ma quando io dicevo che questa squadra con Zeman non andava Non andava Oh, Palermo-Pescara, 1-1 1-1 e abbiamo giocato una partita della Madonna Oh, oggi abbiamo massacrato il Palermo E' stata una partita giocata, primo tempo su ritmi leggermente più tranquilli Secondo tempo partiva più veloce, azioni da una parte e anche dall'altra Il Palermo ha dato qualche occasione più che altro a fine partita Ci ha impensierito un po' durante i minuti recupero Oh, ma il Pescara ha fatto un partitone Ma da quanto tempo è che non vediamo il Pescara giocare così? Finalmente una squadra trasformata, sicura di sé Una difesa alta, pressing a partire dagli attaccanti, pressing alto Giocatori che si sovrapponevano Terzini che andavano, Fiamozzi che andava Crescenzi che andava Oh, pure Coulibaly Coulibaly ci ha sorpreso tutti Tutti sorpresi perché è una partita veramente che Noi non avevamo mai visto un Pescara così Coda, perfetto Un muro, non ha fatto passare niente Insieme a Fornasier Altra nota positiva della giornata Brugman, benino Un po' in ombra, mancuso Mi dispiace per Pettinari che ha fatto una bella partita Si è mosso bene Peccato per quel gol che si è mangiato nel secondo tempo Con quella mezza rovesciata Dove la palla andrà a finire sopra la traversa Valsania si è confermato un'altra volta Un centrocampista Buonissimo centrocampista per la Serie B Un'altra buona prestazione Goal un po' fortunoso con quel suo tiro Che è rimpallato sulla piede del difensore del Palermo E la palla si è insaccata poi in rete Ma oggi Finalmente abbiamo visto un Pescara Riuscire a giocare una partita degna Cioè, della P maiuscola Questo Pescara Un Pescara che non abbiamo mai visto Mai Allora Quando dicevo io che secondo me questa squadra con Zeman non girava Tutti mi dicevano Eh ma però Zeman ha fatto il massimo Con questa squadra di Scarpari Eravamo a tre punti del playoff Ma che cazzo stete a dire Sta squadra si trovava a tre punti del playoff Quando Zeman è stato esonerato Perché il cambiato di B È Basso Basso Non perché il Pescara meritava di stare lì Con il gioco che facevamo Se c'era uno come Pilon Come abbiamo visto oggi Pilon Un motivatore Uno che è capace di Motivare i giocatori Di stare tranquilli Di dialogare Di parlare Di adattarsi alla squadra Di mettere i giocatori nel loro ruolo Forse il Pescara adesso non sarebbe così Non dico che eravamo ai playoff Ma neanche eravamo a tre punti della salvezza Non è così il discorso Il calcio è È rotondo Pallone rotondo Le partite si vincono e si perdono Però la fortuna la si trova E il Pescara oggi si era anche cercata La sua fortuna Ma quante cazzo abbiamo a segnare Un calcio di rigore Quando li facciamo i calci di rigore Quando li segniamo Oggi Brugman un'altra volta Pluff La cazzata Ma perché Perché dico io Perché Ma è possibile che non si è capace Una persona di andare lì Mettere il pallone sul dischetto E BOM Tiri una mazzata Che ci fa entra pure il portiere Dentro la porta Ma come si deve fa Ma È possibile che riusciamo a segnare Un calcio di rigore Sono due anni che non segniamo Ma che cazzo gli ha preso A questi giocatori La Sebastianite C'hanno Che quando prendono il pallone C'hanno paura di tirare Un calcio di rigore in porta Ma che è la Sebastianite veramente E prima i Musciari E poi i Caprari E poi i Biraghi Mo abbiamo abbiato Un'altra volta Di pettinare Mochi Brugman Oh Ma quando gli diremmo Un calcio di rigore Dentro la porta Ma che ci dobbiamo andare A noi rigori Cioè a sto punto ci inventiamo la Quando si rifischia Un calcio di rigore Facciamo come quando Facciamo chi volesse milionario Cioè Ci inventiamo la La chiamata dal pubblico Il giocatore Chiama il pubblico E arriva il tifoso Che dalla curva Dalla tribuna Scende in campo Si mette una paura di scala E ti do un rigore Facciamo a cucina Almeno Facciamo a segnare Un calcio di rigore Ci riusciremo prima o poi Prima la fine del camionato A fare un rigore Spero che lo segneremo No Mi sembra assurda questa cosa Ci abbiamo perso Con il Palermo Ci abbiamo pareggiato Con il Palermo oggi Ci abbiamo perso Con l'Empoli in casa Per un calcio di rigore Solo noi Vabbè Evidentemente Non abbiamo ancora Le capacità tecniche Per segnare un calcio di rigore Prima o poi Qualcuno Imparerà a tirarli Spero che adesso Mister Pilon Metta questi Quando ne sono 28 30 giocatori Tutti quanti Col pallone in mano Si fanno quelle 3-4 ore Al giorno Pomeriggio Magari lo mette Un pomeriggio intero Batte 4 ore di seguito I calci di rigore Metti Fiorillo In porta Savellone e Baiocco Che si alternano Calci di rigore Per tutti quanti Sperando che qualcuno Si impara A tirare i rigori Gocatori professionisti Per il resto Ragazzi Io sono soddisfatto Questo Pescara Mi è piaciuto E' stata la prestazione Migliore in assoluto Di questo campionato La migliore Finalmente una squadra Grintosa Con le palle Come ha detto Fiamozzi Che dice che Oggi abbiamo Oggi è un punto di partenza Dice la testa Già sabato E speriamo che i nostri tifosi Ci stiamo vicino C'è rabbia Voglia di far bene In settimana Il mister ci ha dato Le certezze Con noi Ha lavorato Su degli aspetti tattici Ma soprattutto Su quelli motivazionali Quindi è quello che dico io Pilon Ha lavorato sulla testa Sulla capa Dei giovatori Quello che serviva E mi dispiace Che il mister Epifani Non sia riuscito In questo E' un peccato Però Io auguro sempre Il meglio A tutta la carriera Il bene possibile Per Epifani Adesso che però C'è Pilon in panchina Al Pescara Spero Di fare Più punti possibili Con lui Anche Valzani Ha detto che E' stata una bella gara Ha ammesso che Sul tiro è stato Fortunato Però oggi hanno capito Che tutti devono dare Qualcosa in più E quindi dice Che Pilon ha dato serenità E sono stati bravi A sfruttare Le occasioni Che hanno avuto Niente No io sono fiducioso Sono fiducioso Ero Fiducioso Lo sa chi mi segue Nel gruppo Chi fa parte Nel gruppo O un gruppo facebook Pescaresi convinti Vi lascio il link Qui sotto In descrizione Iscrivetevi al gruppo Se volete Io Ieri Avevo scritto Che oggi avremmo vinto A Palermo Ero fiducioso Avevo ragione Se avessimo segnato Quel calcio di rigore Oggi staremmo a parlare Della prima vittoria Del post Zevan In campionato E niente Sono fiducioso Anche per la partita Col Bari Rimango Veramente Fiducioso Che dire Ragazzi Vi lascio Il link Come vi ho detto In descrizione Del mio gruppo facebook Pescaresi convinti Se volete Iscrivervi Fai piacere Siamo tutti tifosi del Pescara Dove ci piace Confrontarci E parlare del Pescara Siete i benvenuti Mi raccomando Iscrivetevi al canale Fatemi questo regalo Io vi aspetto sempre Mi fa piacere Che mi seguite Per tutti quelli Che mi lasciano commenti E like Mi raccomando Lasciate like A profusione Il più possibile E ci vediamo Al prossimo episodio Alla prossima Ciao a tutti E sempre Forza Pescara Ciao